Sul Corriere del Veneto di domenica è apparso un articolo firmato da Monica Zichiero dal titolo Da Rosolina fino a Bibione 12 proposti per l'offshore ma mancano i fondi per farlo. Con il sottotitolo di Blasio i primi tre faranno il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il pezzo riporta l'attenzione sui temi dei porti offshore che in realtà secondo l'informazione che abbiamo riguardano progetti di porti che sarebbero comunque collegati alla terraferma tramite ponti o persino tunnel sottomarini. L'idea del port offshore risale addirittura ai tempi dell'ex sindaco di Venezia Paolo Costa che poi è stato anche presidente dell'autorità portuale e ha incontrato negli anni una forte opposizione praticamente da parte degli agenti marittimi a causa dei costi elevati della cosiddetta rottura di carico. Tornando all'articolo tra le diverse opzioni riportate si parla dell'area di Venezia del Delta del Po a partire da Rosolina e quindi non viene menzionata per niente la possibilità di quel famoso progetto chiamato V-Gate da realizzare di fronte all'isola verde che aveva sollevato tantissime polemiche. Quindi la mancanza della citazione di Chioggia in questo articolo potrebbe anche far tirare un sospiro di sollievo a tutti i detrattori di quest'idea. Però come appunto sottolineano nell'articolo nulla è ancora definito infatti se non ci sarà una mancanza, se ci sarà fino a quando ci sarà una mancanza di allineamento tra governo, Parlamento e disponibilità di finanziamento questi progetti saranno molto lontani dall'essere realizzati. L'urgenza di una soluzione è evidente. Nel link in descrizione vi mettiamo l'intervento del presidente degli agenti marittimi Alessandro Santi in cui 5 anni fa in Consiglio Comunale parlava del problema dell'inalzamento dei mari e quindi che rende sempre più complicata la gestione dei traffici nei porti di Venezia e Chioggia sia per le dimensioni crescenti delle navi che oltre diciamo alla necessità di avere i canali scavati e adeguati ma anche per la chiusura sempre più frequente delle paratorie mobile del MOSE che pongono un'incognita sulla certezza degli accessi per gli armatori, per gli operatori logistici. Il MOSE stesso che pure essendo operativo e ha dimostrato la sua efficacia nel prevenire le alluvioni trova ancora soggetti che o negano l'evidenza, parlano di altre ipotesi che non stanno né in cielo né in terra oppure criticano costi di esercizio anche non avendo la minima esperienza di quanto costa la realizzazione di un'infrastruttura. Questi parlano che costa troppo ma non sanno neanche quanto costa la realizzazione piccola rotatoria oppure per esempio quanto costa la manutenzione di un chilometro di autostrada. Comunque questa lentezza ne riconosce risultati e indicativa di quanto potrebbe essere complesso avviare i tempi medi, brevi non se ne parla di scuro, sono tempi medi lunghi, un progetto esecutivo per un porto esterno della laguna capace di accogliere grandi navi, portacontanere passeggeri. Purtroppo amministrazioni e l'opinione pubblica arriveranno a capire l'importanza di decidere quando il traffico marittimo dei porti di Chioggia e Venezia sarà azzerato. A Fenergia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso o prezzo variabile, telefonina, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione di tutta di un euro e tretta.